Nuovi cambiamenti sulla gestione di diverse corse extraurbane dell'isola dopo il caos di un mese fa dovuto alle difficoltà nella copertura del servizio dell'azienda siciliana Trasporti, con l'inizio della scuola e l'attivazione delle tratte scolastiche. Alcune corse sono state così assegnate ad altre aziende, ma nelle ultime settimane Aste ne ha richiesto e ottenuto progressivamente il recupero, dato che a quanto pare le criticità patite dalla partecipata della Regione sono in corso di risoluzione dopo la riparazione di diversi mezzi guasti e l'avvio di procedure per l'acquisizione di nuovi autobus e il noleggio di altri da privati. Ciò non toglie che quello del trasporto pubblico extraurbano sia un tema al momento molto delicato e che dovrebbe trovare al più presto una svolta definitiva, visto che ancora capita che alcune corse vengano annullate dopo anni di mancata programmazione strategica. Venerdì scorso dal Dipartimento regionale Trasporti è stata decisa la revoca di obbligo di servizio da alcune imprese private, in particolare per quanto riguarda l'Interbus e le tratte che sono state restituite all'AST sono Catania, Gravina, Mascaluccia, Monpileri, Tre Mestieri, San Giovanni e La Punta, Sant'Aga dei Ribattiati, Catania, Catania, Mister Bianco, Motta, Sant'Anastasi e Catania, Mascaluccia, Nicolosi, Belpasso, Mascaluccia, Catania. Nel Catanese nei giorni scorsi la partecipata ha comunicato di poter tornare a gestire anche l'autolinea Catania-Battiati, Tre Mestieri, Pedara, Tre Castagni, San Giovanni e La Punta, Battiati, Catania e la Catania, San Gregorio, Valverde, Maugeria, C. Sant'Antonio, C. Catena, A. C. Reale. Diverse tratte del palermitano e del messinese sono state date nuovamente in gestione all'azienda siciliana Trasporti sperando che non emergano nuove criticità.